Qui ad Aprilia, presso il concessionario prezioso, è stata inaugurata oggi la prima colonnina a ricarica veloce in Italia, completamente gratuita, ricaricabile con un'energia eolica, quindi ha un impatto zero. È un impianto totalmente innovativo, è un concetto totalmente innovativo perché è completamente gratuito, gratuito e pubblico, quindi qualsiasi proprietario di un'auto elettrica può venire qua presso il concessionario di Aprilia e fermarsi, ricaricare rapidamente la sua batteria in circa 20 minuti, l'80% della ricarica disponibile, sfruttando quello che è tutto il servizio che mette a disposizione il cliente, il wifi, il caffè e quindi possibilità di trascorrere il tempo necessario per la ricarica. È un'idea in linea con la Creative Technology DNA di Citroen e soltanto noi potevamo farlo perché siamo leader sul mercato elettrico in Italia e in Europa ed è un'innovazione anche che permette di abbattere quello che sono le barriere di infrastruttura, per lo sviluppo della mobilità urbana elettrica. Anche in Isto per l'Ambiente, il dottor Clini ha apprezzato moltissimo l'iniziativa, l'ha apprezzato sia per il coraggio sia per il materiale usato perché questa pala eolica verticale ha una struttura che ben si inserisce in un contesto urbano senza quindi arrecare danno all'architettura urbanistica e al palesaggio urbanistico. Grazie a tutti!